questo è il molo modesta vittoria foraccia non si sa se è una vittoria o una signora di nome vittoria questo è il parco nazionale non si può entrare perché a piedi o in bicicletta si entra solo la mattina dalle 9 alle 12 se no ti costa 30 euro fare il giretto circa 30 euro può dipende insomma bello Loch Ness quanto mi gusta Loch Ness prima o poi dovrò andare al lago di Loch Ness per vedere com'è bello sta calma fredda è spettacolare nemmeno tirai più il vento